Un risultato che dopo il 4-2 dell'andata a Genova forse era insperato, però la determinazione a volte porta anche a questi punti. Ma io l'ho sempre detto, questa squadra è una squadra che dà il 100% tutte le domeniche, sia che chiunque giochi dà il 100%, quindi per noi la cosa più importante è questa, dare il massimo e con questo spirito sono sicuro che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Fabio, possiamo dirlo che è di un altro pianeta o di un'altra categoria rispetto a questo campionato? Fabio non ha bisogno di presentazione, è un grande campione, è stato il mio idolo fin quando giocavo da piccolino, è stata una bella emozione giocare con lui oggi. Niente, però comunque siamo riusciti a far valere anche le nostre qualità su questi campi. Un doppio che forse non vi aspettavate nemmeno dopo quello che era successo stamattina? Perché? Fa parte dello sport, giocare su questa superficie non è affatto facile, anzi, mi sorprendo come una competizione così, se si può dire, seguita in Italia sia così difficile. Comunque anche per il pubblico vedere un tennis per i miei occhi suona male, brutto da vedere, ma difficile da gustare, ecco, forse è un aggettivo diverso. Però su questa superficie tutti giocano bene, se serve bene è difficilissimo rispondere e loro hanno fatto meno fatica di noi oggi. Tu comunque hai dato quello che dovevi dare stamattina? Io sono qua, facevo piacere stare con i miei amici che ci sono cresciuti da quando avevo 14 anni a Genova e sapevano che questa sera dovevo essere a Milano, mi hanno chiamato, sono venuto e mi ha fatto piacere stare con loro. Cosa si prova a caldo dopo aver fatto la doppia, singolo e doppio? Sicuramente sono molto felice visto che eravamo sicuramente gli sfavoriti oggi, sicuramente il tre pari oggi era fondamentale, quindi sono molto felice del risultato e di aver portato a casa tutti e due i punti. È uno sporting che fino alla fine non si sa quanto può dare e poi vengono fuori dei risultati come questi perché anche nell'altro campo è venuto fuori un risultato a sorpresa pur avendo un avversario di lusso. Sì, sicuramente è incredibile il risultato che è successo nell'altro campo che penso nessuno si pensava che accadesse, quindi sicuramente questi due doppi che abbiamo vinto abbiamo fatto veramente due numeri e quindi dobbiamo ringraziare, essere felici e portarci a casa a questo punto che abbiamo fatto oggi.